Senti Lucia, avete puntato, ci hai detto quella che è un po' la storia dell'azienda, è comunque una storia abbastanza virtuosa, avete puntato fin da subito su un certo tipo di agricoltura sostenibile, siete biologici ormai da una ventina d'anni e avete scommesso e puntato molto sulla valorizzazione del territorio, in particolare sui vitigni autoctoni. Ecco, dirci brevemente com'è nata, perché questa cosa e quali possono essere state e quali possono essere anche eventuali problematiche, difficoltà in questo tipo di approccio. Sì, sicuramente noi per nostro gusto personale abbiamo sempre amato i vini prodotti da varietà autoctone, ci hanno sempre affascinato e quindi nel momento in cui abbiamo dovuto prendere delle decisioni che riguardassero soprattutto i nuovi impianti, è stato abbastanza semplice orientarsi in quella direzione. Con anche un pizzico di innovazione nella tradizione, nel senso che i nuovi impianti che abbiamo realizzato nel 2004, quindi proprio all'inizio della nostra storia, non erano soltanto di Sangiovese e di Canaiolo, come già avevamo trovato nelle vigne vecchie che abbiamo acquistato, ma abbiamo voluto sperimentare impiantando un po' di foglia tonda, che è stata un po' la varietà che ci ha dato un po' più di filo da torcere, devo dire. Noi quindi oggi ci troviamo a lavorare su varietà che per quanto riguarda i vini bianchi sono Trebbiano e Malvasia, con le quali realizziamo due etichette, un Trebbiano in purezza e un blend di Trebbiano e Malvasia. Per i vini rossi invece abbiamo il nostro vino più giovane, la Vento e Sole, che io definisco sempre un po' il nostro cavallo di battaglia, che è appunto Sangiovese e foglia tonda, e poi la nostra riserva che è un Sangiovese con Canaiolo, come vitigno complementare. I due rossi in particolare si differenziano proprio perché provengono da vigne d'età diversa, cioè non c'è una prima scelta e una seconda scelta, quindi il vino giovane, la seconda scelta è il vino più da invecchiamento e sono le uve migliori. No, noi facciamo una scelta a monte, nel senso che il vino più giovane viene dalle vigne più giovani, che quindi, diciamo, idealmente comunque a regola dovrebbe avere anche un potenziale di invecchiamento inferiore, e il vino più da invecchiamento lo otteniamo dalle vigne più vecchie, quindi appunto il foglia tonda che noi abbiamo piantato una ventina di anni fa lo utilizziamo per il nostro Vento e Sole. Come dicevo, questa è la varietà che un pochino ci ha messo più alla prova. Quella più sfidante alla fine. Sì, assolutamente, prima perché comunque nessuno di noi aveva esperienza pregressa su questa varietà, e poi anche perché abbiamo avuto un po', cioè c'è stata un po' la combinazione di aver impiantato questo vigneto su un terreno molto particolare, che prima abbiamo proprio attraversato, ed è, si presenta veramente, cioè, si vede proprio al suo interno una ricchezza quasi esagerata, quasi estrema, di pietre, di pietre alberese, che è proprio quella che poi dà il nome al nostro podere, e su cui sorge il podere, e che effettivamente crea una situazione di crescita e di sviluppo per la vigna un po' particolare. Effettivamente è una vigna che ha vent'anni ma ne dimostra meno della metà, proprio per il suo sviluppo. Quindi sicuramente è una vigna che già per le condizioni di coltivazione ci pone tutti gli anni delle sfide diverse, specialmente in questi ultimi anni in cui stiamo avendo dei problemi di siccità che tutti comunque sono, tutti conoscono. E in più sicuramente la sfida è stata un po' quella di capire quale fosse il potenziale e come farlo esprimere attraverso la vinificazione. Quindi poi il nostro orientamento è stato quello di utilizzare questa varietà per un vino che avesse grande bevibilità, quindi sfruttare quel carattere vegetale che tende ad esprimere il fogliatonda, magari anche in maniera un po' eccessiva certe volte, per conferire maggiore bevibilità al Sangiovese, che comunque per questo vino, per la Vento e Sole, costituisce comunque il 90% della composizione. Quindi diciamo che di quello che poteva essere un tallone d'Achille di questa varietà, noi abbiamo fatto poi un po' l'aspetto positivo, un aspetto distintivo quasi. Esatto, e da sfruttare per dare una caratteristica molto definita a questo vino. Quindi il fogliatonda va essenzialmente nel Chianti classico? Sì, nel nostro Chianti dannata, esatto, che poi dannata non è, perché comunque noi facendo anche, soprattutto ecco, questa è una cosa importante da dire, oltre al fatto che siamo biologici, lavoriamo anche in maniera naturale, in cantina, quindi non utilizziamo lieviti selezionati, non utilizziamo quadriumantinologici, non filtriamo i vini, e quindi chiaramente anche l'evoluzione dei vini stessi durante l'affinamento segue un percorso che ha tutta una sua velocità. Perciò il nostro Chianti dannata esce però dopo almeno tre anni di affinamento tra cantina e bottiglia. E questo è il nostro vino rosso più giovane, mentre la riserva dopo almeno quattro anni, di cui un paio passati in legno. Proprio perché comunque entrambi hanno bisogno dei loro tempi, e abbiamo visto negli anni che comunque è fondamentale dare a questi vini lo spazio e il tempo per maturare, perché comunque prima o poi escono. Bisogna soltanto aspettare il momento giusto perché si esprimano nel modo giusto e nel modo più equilibrato per le varietà che utilizziamo coltivate all'interno del nostro territorio. Bene Lucia, allora è stato un piacere, grazie dell'ospitalità e complimenti per quello che state facendo. Grazie a voi di questa visita, è sempre un piacere comunque riuscire a avere l'opportunità di comunicare non solo i nostri vini come prodotto finito, ma come punto d'arrivo diciamo di un progetto che parte chiaramente dalla vigna. Perfetto, grazie.